Continua l'impegno del Consiglio regionale del Piemonte nei progetti sulla memoria e la resistenza. Installata nei pressi della Galleria San Federico di Torino verso via Bertola, una pietra d'inciampo dedicata al tipografo della stampa Giovanni Battisti, prelevato da un blitz delle camicie nere nella vecchia sede del quotidiano e assassinato il 5 maggio 1944. Alla cerimonia di posa della pietra, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio regionale e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione Daniele Valle. Per noi come Comitato Resistenza è molto importante non solo perché noi storicamente sosteniamo l'installazione di queste piccole opere d'arte che però ci aiutano a fare memoria e ricordo nella nostra quotidianità, ma perché questa in particolare l'abbiamo proprio proposta a noi nell'ambito di un altro progetto del Comitato Resistenza. Avevamo dedicato a Battisti e a un suo collega a Sbaragia un concerto un anno e mezzo fa nell'arco dell'attività che proponiamo ogni anno e in quell'occasione abbiamo proposto alla stampa e a Gunther, l'artista che porta avanti queste installazioni, di curare una pietra d'inciampo dedicata proprio a Giovanni Battisti, quindi per noi è una grande soddisfazione. È un momento in cui i valori vanno rivendicati, vanno condivisi, ci si deve ricordare la parte principale della Costituzione, i primi articoli, quelli fondamentali che costruiscono il senso della nostra comunità che è una comunità antifascista. L'uomo che ricordiamo oggi era un signore che lavorava alla stampa, lavorava assieme ai giornalisti, lavorava assieme agli avvocati, assieme agli operai in un momento in cui l'intera collettività si ribellava a un regime. La memoria deve riportarci a quei momenti e dirci qual è la strada per non trovarsi più in quella situazione. Le pietre d'inciampo sono un monumento diffuso e partecipato, ideato e realizzato dall'artista tedesco Gunther Demnig per ricordare le singole vittime della deportazione nazista e fascista. Fino a oggi ne sono state installate più di 100.000 in tutta Europa, di cui 153 a Torino. Questo fa sì che si ridà l'identità a queste persone e in qualche modo simbolicamente ritornano a casa. Sono molti a volte i richiedenti che dicono oggi mio papà è tornato in qualche modo a casa. Quindi persone che non hanno una tomba ma ritornano e poi lo scopo è quello proprio di riflettere perché tutto questo ci dà un valore soprattutto per gli studenti e qualcosa che lascia un grande significato. Un seme che loro poi dovranno coltivare e capire che questo progetto di cittadinanza attiva funziona per renderci cittadini migliori.